bene amici tutto hardware e phones e oggi faremo l'unboxing della chiavetta wifi di casa di link il modello è il dwa 125 l'ho presa su amazon perché ho avuto un problema con la avevo in precedenza la chiavetta di marca tp link ho fatto il video tempo dietro e purtroppo non so cosa sia successo ma non mi ha smesso di funzionare per cui ho dovuto acquistare un'altra e ho deciso di prendere questa che l'ho presa su amazon a circa 8 euro 8 9 euro ora non ricordo l'ho acquistata ieri cioè mi è arrivata ieri quindi devo dire che ho visto le recensioni e sono state abbastanza positive per cui ho pensato di fare questo acquisto e di e di prenderla e allora questa chiavetta diciamo è un ottimo prodotto e soprattutto anche per il prezzo visto che comunque non l'ho presa molto elevata e l'altra chiavetta invece l'avevo presa all'incirca allo stesso prezzo quindi considerato che alla fine qui ho una di una marca diciamo un po migliore rispetto a quella precedente il prezzo diciamo è stato vantaggioso questa è la confezione molto diciamo minimale molto piccola qui dietro troviamo una serie di caratteristiche di scritte tramite la lingua italiano e allora innanzitutto è una a 150 megabit per secondo ovviamente il wifi è bgn e considerato comunque l'ho presa a 150 megabit per secondo anche per il fatto che comunque i provider italiani non raggiungono purtroppo questa velocità per cui c'era quella da 300 ma ho preso questa che tutto sommato va bene pure e qui sul sul lato sinistro troviamo il sistema operativo compatibile e vabbè dice per me cosi x eccetera eccetera e dimensioni ovviamente e e due anni di garanzia e poi troviamo sempre qui sul sul lato invece destro troviamo la configurazione diciamo molto semplice inseriamo il cd abbiamo l'applicazione e ci connettiamo è compatibile ovviamente con il sistema operativo windows 10 e ha il wifi protected setup cioè quel bottone che premendolo riusciamo a connetterci senza utilizzare cioè senza digitare alcuna password diciamo non abbiamo nient'altro qui sotto ovviamente le solite scritte certificazione europea e qui abbiamo la la marca e nient'altro ok apriamo la confezione si apre proprio qui c'è un adesivo ok allora allora abbiamo qui manualistica con tutta la garanzia sulle informazioni e la la lingua e eccetera eccetera con la dichiarazione di conformità abbiamo il dischetto per una diciamo facile configurazione e contiene anche diversi programmini per installarli tranquillamente sul pc e e qui abbiamo la piccola chiavetta e dall'immagine sembra molto più grande ma vedendola adesso è molto piccola non abbiamo qui nient'altro e apriamo la ok eccola qui in nella sua colorazione diciamo nera lucida sì più che altro è lucida sembra un nero molto diciamo bella al tatto e qui troviamo le ovviamente le varie caratteristiche con il mac address e eccetera eccetera e questo ovviamente il tappo e questa è la la piccola chiavetta e vi farò sapere perché dall'aspetto mi è piaciuto molto soprattutto anche per la sua diciamo leggerezza e la sua diciamo le sue dimensioni molto ridotte e visto che quella che avevo in precedenza era comunque molto larga e soprattutto molto anche spesso questo invece è davvero molto sottile quindi è un qualcosa diciamo di di eccezionale da parte di questa di questa di questa marca acquisto troviamo hanno non ci fatto caso questa è la guida rapida diciamo per l'installazione e qui troviamo ovviamente una serie di prodotti sempre consigliati con schede di antenne wireless schede di rete wireless pci per collegarla al al pc desktop e poi una serie di router qui nel qui sopra e qui dietro abbiamo la configurazione che ci dice di inserire il cd di avviare il wizard e poi di connettersi alla rete wifi e poi per qualsiasi problema andare nel seguente sito la guida rapida che ovviamente di link ci lascia nei suoi prodotti diciamo molto comoda questa guida rapida perché molti solitamente molti produttori decidono di darci il sito web e di cercare la direttamente il manuale qui invece ci rilascia diciamo una piccola guida molto utile che rende la cosa diciamo un po semplice anche se comunque non è una cosa complicata installarla però comunque sia è piacevole quindi che dire sono veramente soddisfatto di questo di questo acquisto e per sicurezza vi lascio anche nei commenti c'è in descrizione vi lascio anche il il sito dove ho acquistato proprio questa chiavetta vabbè l'ho presa su amazon però vi lascerò proprio il link specifico e per questo video è tutto e spero che questo video vi sia stato utile e per qualsiasi informazione e su questa chiavetta e qualsiasi altra caratteristica sulla velocità mi fate sapere mi lasciate qualche commento qui sotto ci vediamo al prossimo video ciao ciao